Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio portare un altro GDR che sto apprezzando veramente da morire e che, devo dire la verità, oltre ad apprezzare, è piaciuto anche veramente, veramente tanto. Vi parlo di Simbarum, che è un gioco, un GDR vecchia scuola, old school, l'avete visto, che iniziano ad andare veramente tanto da paura, ora come Forbidden Lens, l'ultima torcia, o anche appunto questo Simbarum, che ci rimandano ai vecchi tempi del primo Dungeons & Dragons, se vogliamo, massimo dell'Advanced. E in questa versione che vi presento è quella ufficiale della Free League, mi scuso subito, vi faccio vedere la versione inglese. La versione in italiano è edita in Italia, tanto trovate il link in descrizione della Space Orange, però gli ho chiesto al manuale, me l'avrebbero mandato in italiano, solo che le copie per la stampa erano finite. Quindi, oltretutto, è anche fuori stampa, devono aspettare che venga ristampato e poi si vedrà più avanti. Comunque, tanto, io ve lo presento in inglese, ma non vi preoccupate, il gioco è completamente tradotto, non l'ho visto in manuale, ma me l'hanno detto anche molto bene, dalla Space Orange, e trovate comunque il link in descrizione per acquistarlo in italiano. Si parla di Simbarum, si parla di un gioco molto mistico, vi devo dire, come ambientazione, che, fra i tanti giochi che potrei accomunarli, o comunque le sensazioni che mi ha tirato fuori, mi sembra di rigiocare una specie di Dark Souls. La foresta del Davokar, che ora poi vi vado a descrivere, ricorda un po', ora non me ne vogliate a male, non mi ricordo tutto, però di Dark Souls, quel pezzo dove si arriva in quel boschetto sacro, vi ricordate oscure e tutto quanto, dove ci sono i funghi, che vi attaccano, che i funghi giganti, un periodo come si chiamavano, e che leggermente più avanti c'era Sif, il lupo, anche lì sempre, se non mi ricordo male, c'erano quelle specie di golem giganteschi, quelle statue che si muovevano con lo scudo e con la spada, alte tipo tre metri, verdi, della natura che vi attaccavano. E mi ricorda molto Dark Souls come ambientazione perché non è un horror, eh. Sia chiaro, per quanto di un po' di contenuto con gli abomini, con la magia, che la magia porta a corruzione sia nel mondo che anche nell'essere vivente, però non è un'ambientazione horror, ecco, non è una specie di Shadow of the Demon Lord, che quello invece è proprio un fantasy horror molto più vicino a un Raveloft, o anche perché no, a un Call of Tulu. Questo è un fantasy di stampo classico, però anche un po' questi richiami al surreale e al mistico, un po' strano alla Dark Souls, alla Miyazaki. Per farvela in breve, nell'ambientazione del gioco, poi nel frattempo vi faccio vedere sia immagini, tra l'altro bellissime, poi vi faccio vedere un po' di manuale tanto mentre vi guardate il video, l'ambientazione è molto particolare, mi garba da morire, e allo stesso tempo è la cosa più strana che mi ha curiosito, perché per farvela con brevi scenni, c'è stata una grande guerra fra il Reame degli Uomini e il Signore Oscuro, che tanto anche lì lo chiamano veramente così nel manuale, quindi non c'è, potrebbe essere un Sauron o altri cattivoni del genere, quindi niente di nuovo. C'è stata questa guerra dove alla fine, dopo tanti tanti anni di guerre, gli Umani hanno vinto a caro prezzo, il Re è morto e la figlia del Re, che ora è l'attuale regina Corinzia, è riuscita a vincere la guerra, però il mondo era completamente, il loro regno degli Umani era completamente devastato e quindi per quello che rimaneva fecero carovane e si spostarono più al nord, dove la terra era molto più fertile, perché dopo la battaglia con i demoni, le creature dell'oscurità, del Signore Oscuro, la guerra era vinta, però immaginatevi un panorama completamente distrutto, Asimel se l'avessero bombardato con testate atomiche, quindi non c'era rimasto più niente e non ci cresceva più nulla. Si sono spostati al nord e spostandosi al nord hanno fondato il nuovo regno di Ambria. L'hanno chiamato Ambria in onore della Chiesa del Sole e della Divinità della Luce, che anche qui un po' il culto è un po' visto come in Game of Thrones, cioè alla fin fine ci sono le divinità antiche del popolo antico e c'è una divinità soltanto, che è la Divinità della Luce, che guida, un po' come Rollor, quello delle Cronache di Rigace e del Fuoco, che guida appunto gli umani. Si sono spostati al nord, hanno fondato questo nuovo regno di Ambria, ovviamente c'è avuto tanto tempo, nel frattempo la regina, Corinzia, che al tempo, quando ci fu la guerra che il padre morì, e la maggior parte dei suoi familiari morirono, era piccolina, era poco più che una ragazzina, adesso è una vera e propria donna e sul volto, va sempre in giro con uno scialle pesante, con un cappuccio, e sul volto porta una maschera, perché si dice che laddove dietro un tempo ci fosse una bellissima ragazzina, con un bellissimo sorriso, adesso ci sia una persona comunque forte, energica, una vera guerriera, ma comunque sul volto e sul resto del corpo, si dice ustioni, bruciature, o anche segni dell'oscurità, del male, dell'abominio, lasciate appunto da questa signora dell'oscurità. Quindi lei, in faccia, non si fa più vedere nemmeno adesso i sudditi, e difficilmente esce a contatto con la gente. Ricorda un po', durante le crociate, vi ricordate il re dei che muoveva i cristiani, durante le crociate in terra santa, che portava una maschera per chi aveva la lebra. Quindi per fare un richiamo, ecco la regina Corinzia, mi ha ricordato questa cosa qui, si sono spostate a nord, hanno fondato varie, la regina poi ha dato vari terreni, perché era un terreno incolto, e che veramente c'era terra per tutti, sembrava un po' l'argentina d'inizio novecento, c'era terreno veramente per tutti, e la regina Corinzia ha diviso tutto quanto in contè, o comunque in Ducati, e ha dato il potere sia ai suoi familiari, che a altre persone che si sono dimostrate in gamba, comunque, e affidabili, e soprattutto a fedeli sudditi. Quindi il regno, anche se è caduto, il regno con quello di Ambre è ritornato forte, forse anche più di quello che era un tempo prima della guerra, ma a caro prezzo. Davanti a loro si espande completamente, e vi faccio vedere la mappa, la regione del Davokar, il bosco del Davokar, e questa è una cosa che mi ha fatto, vi giuro, l'unica idea che mi ha fatto veramente richiedere il manuale rispetto a tutte le altre, perché poi le ambientazioni se ne vede di cotte e di crude, magari tante ti passano di testa, hanno qualcosa di carino, ma poi non ti bloccano in nessun momento. Questa mi ha presa perché tutto il gioco, tutta l'ambientazione, o per meglio dire 90% dell'ambientazione del manuale base, e poi ci sono anche altri manuali, è ambientata nel Davokar, una foresta, fate conto, fittissima, grande come una nazione, per farvi un esempio, tipo la Francia, è come se la Francia fosse tutta un grande bosco, tutto, non ci sono, dimenticatevi vallate, dimenticatevi spiagge, dimenticatevi tutto avvolto da una grandissima foresta, che poi tra l'altro è intricata veramente, cioè in certi punti la luce del sole riesce ancora a filtrare, ma nella maggior parte del Davokar la luce non entra nemmeno, quindi comunque perennemente buio, scuro, quasi come fosse un crepuscolo, notte. E questa terra fa da confine al regno, il nuovo regno di Ambria, ed è stata costruita una città che si chiama Tistolhold, ora nella versione italiana, non lo so ragazzi, ripeto, c'ho quello in inglese, che fa da Ultimo Baluardo, addirittura è a distanza massimo, massimo 300-400 metri dal bosco, della foresta del Davokar, e quello lì è una città talmente grande quanto Indaros, che è la capitale del regno di Ambria, della regina Corinzia, e praticamente è stata espansa da gente che arrivava per fare commercio, gente che arrivava per andare all'avventura nel bosco del Davokar, perché la foresta del Davokar è una foresta, tra 20 virgolette, maledetta, dove nessuno vuole mettere piede, però allo stesso tempo è piena zeppa di tesori. Perché questo? Perché si dice che il vecchio regno di Simbarum, appunto il nome del gioco, i Simbar, fossero un antico regno, un po' come se vi ricordate, potrebbero sembrare il regno di Atlantide, nelle antiche leggende, e quindi qualcosa che è andato distrutto. Però questo regno appunto di Simbarum è ora tutto quanto ridotto in frantumi, e resistono ancora un po' di rovine, di questa antica lussura e splendore sparse per tutta la foresta del Davokar, da nord a sud. E immaginatevi, l'ho detto, una cosa di queste dimensioni qui, una nazione vera e propria buttata dentro questa foresta, piena zeppa di rovine. E quindi gli avventurieri vanno laggiù, infatti il gioco si basa tutto lì dentro, vanno laggiù per trovare questi tesori, ma non soltanto avventurieri, a volte anche l'esercito, a volte anche studiosi, a volte anche tombaroli, archeologi e cose varie. Però la cosa bellina è che non puoi entrare quando ti pare, perché se ti beccano entrare quando ti pare nel Davokar, o viene arrestato, o ancora peggio condannato a morte per altro tradimento. Perché? Perché ovviamente anche in questa ambientazione la regina e tutti quanti i suoi ducati cercano di mangiarci sopra, monopolizzarlo. E quindi se vuoi entrare dentro il Davokar, devi pagare, sembra far ridere, però devi pagare, devi far fare un attestato dell'avventuriero, che è bellino, cioè inizio il manuale, e a seconda di quanti siete, un fiorino, a seconda di quanti siete, una cosa o un'altra, dovete pagare una certa somma, per quanto ci volete restare, una settimana, dieci giorni, quanti siete, uno, cinque, tremila. Vogliamo entrare là dentro, pagate una tassa, per entrare nel Davokar, perché il Davokar comunque è proprietà della regina del nuovo regno di Ambria, perché poi non è di proprietà di nessuno, e potete entrare direttamente, e laggiù dentro troverete antiche rovine, troverete mostri fatti fusi con degli alberi, altri veramente come un palazzo di 3-4 piani, troverete creature strane ancestrali, e le razze che potete giocare nel gioco non sono moltissime, ci sono gli umani, ci sono i mutaforma, ci sono i goblin, però la cosa che a me, piace di più di questa ambientazione, uno è il mutaforma ci sta, perché racconta le antiche leggende degli elfi, che non ti sa per quale motivo, infatti il manuale, almeno il base non te lo spiega, gli elfi vanno nelle città tipo di Stolord, o comunque ineducati, senza farsi vedere creature etere, vanno a rubare i bambini degli umani appena nati, dalle culle, li portano via, e al loro posto ci mettono un mutaforma, mutaforma che poi prende le stesse sembianze del bambino che hanno rapito, però più o meno negli anni si rivelerà, magari quando avrà almeno 7, 8, 10 anni, e i genitori per tanti anni nemmeno se ne rendono conto, e all'inizio erano bruciati, erano cacciati, però ora iniziano ad essere talmente tanti, che sono visti come una vera e propria razza, e quindi temuti, ma da una parte rispettati, soprattutto utilizzati, perché chi migliore di un mutaforma per prendere le sembianze del bambino, è pugnalati alle spalle nel momento giusto, e questi elfi, in questa ambientazione, non sono assolutamente una razza giocabile, gli elfi sono come i ninja nella leggenda dei cinque anelli, sono il mistero, ed è bello perché gli elfi sono creature etere, si dividono in quattro razze, ci sono tipo gli spiritelli, che sono gli elfi dell'inverno, poi ci sono gli elfi dell'estate, gli elfi dell'autunno, e gli elfi della primavera, e sono belli come disegni, che ora poi vi faccio vedere uno, perché gli elfi sono visti, non come nel vecchio D&D, alti 1,50 m con le orecchie lunghissime, o non tipo World of Warcraft, alti e grossi, cazzo anche troppo, più robusti di un umano, e nemmeno come il signore degli anelli, magri, alti, slanciati, no, qui gli elfi sono fantasmi, sono creature etere, infatti, un elfo sembra più una creatura aliena, tutto bianco in faccia, una creatura quasi eterea, con gli occhi neri molto larghi, e anche questa è una cosa che mi è garbata da morire, e soprattutto, questa ambientazione qui, ve l'ho detto, potete basare le vostre avventure, anche nel regno di Ambria, però, sì, magari, perché ci sono anche gli scontri fra Ducati, quel Ducato che vede male quell'altro, quindi c'è anche molto gioco politico dietro, l'avventura non è nemmeno Davokar, però, la cosa più bella di un avventuriere è andare là dentro, alla fin fine in questa foresta millenaria antica, ora, fatte queste piccole precisazioni, che poi ci sarebbe da spiegare veramente tant'altro, le razze giocabili nel gioco sono queste quattro, che vi ho detto inizialmente, le classi nel gioco sono un casino, perché ci sono archetipi, che sono il guerriero, quindi come in tutte le ambientazioni, il ladro, comunque il ranger e cose varie, e il castante, finite, ci sono visti tre archetipi, però, per ogni archetipo ci sono cinque o sei classi, che ne so, il guerriero può fare il berserk, può fare l'uomo della milizia, può fare il cavaliere, allo stesso tempo, come magari il ranger, può fare il ladro, lo scassinatore, il tombarolo, oppure, perché no, il mago potrebbe fare il castante, oppure il mago selvaggio, o la strega, perché in questa ambientazione, nel Davokar, ci sono varie, gli unici umani che lo abitano ancora, gli unici, o che almeno si sappia, sono sul limitare, perché nessuno, nemmeno i popoli, che abitano in questa ambientazione, si spostano verso l'interno del Davokar, che non si sa cosa ci sia, ma, c'è gente che ne è uscita pazza, veramente, sono usciti come abomini, o uomini bestia, completamente, hanno perso il ballume della ragione, non sono nemmeno più esseri umani, hanno perso l'anima, questi clan, che dovrebbero essere tipo 10, 12, una cosa del genere, sono tutti quanti comandati da streghe, e fra di loro c'è una strega eletta, in un consiglio, che fa da capo, e da portavoce, quindi tutti quanti i clan di barbari, molto diversi l'uno dall'altro, sono gestiti da queste streghe, comandati da queste streghe, quindi, una cultura molto basata, su antichi dei pagani, che non sono sicuramente, quelle che vi ho detto, della regina Corinzia, e del regno di Ambria. Altra cosa bella di questa ambientazione, è la magia, perché la magia, non deve essere utilizzata, la magia comporta corruzione, è bello questo gioco, mi piace, perché da una parte, ti dà una natura cattiva, bestiale, feroce, e soprattutto ferale, pronta a divorarti, ma dall'altra parte, è una natura che si incazza, quando non viene rispettata, e quindi c'è anche un bel contesto, che ci dovrebbe far fare una domanda, adesso, non l'hanno fatta a casa, dentro questo manuale qui, di Simbarum, dove la natura va rispettata, perché se non la rispetti, la natura ti divora, e si riprende quello che l'hai tolto, e magari no, perché ti corrompe anche l'anima, ed è una cosa bella, utilizzare la magia in questo gioco, perché a soldi utilizzarla, richiamerai a te poteri oscuri, e alla fine il tuo personaggio, prenderà dei marchi, che potrebbero partire da una cavolata, i denti tutti gialli, ad esempio, a un'altra tipo, che metà faccia diventa completamente squamata, o steonata, o perché no, magari dalle braccia, diventano dei tentacoli lunghissimi, fino a poi diventare un abominio, completamente corrotto, e a quel punto perdi il personaggio, e il tuo personaggio rimarrà lì, a vagare nel Davokar, fino a che non verrà ucciso. Il regolamento, ragazzi, non ve lo sto di scrivere veloce, ma comunque si basa tutto sul tiro di un D20. Tutto lì. E una cosa che da una parte ho apprezzato, ma da una parte no, tanto le considerazioni finali, è il fatto che soltanto i giocatori tirano il dado. Il Dungeon Master narra, e dice cosa succede, però, ad esempio, un orco ti attacca, di solito è il Dungeon Master che tira per l'orco, e poi magari il giocatore di là che si difende. No, qui tirano tutti i giocatori, quindi un orco ti attacca, il giocatore che viene attaccato dall'orco tira il dado, oppure due demoni attaccano uno A e uno B. Il giocatore A tira per il suo demone, il giocatore B tira per il suo demone. Quindi tutti i dadi sono tirati dai giocatori. Nella formula che voi prendete, all'inizio vi vengono date, avete 8 caratteristiche, e vi vengono dati i punteggi. I punteggi di queste caratteristiche potete o dividere 8-10 caratteristiche, dovete dividere 80 punti per queste caratteristiche, e una soltanto può avere un valore di 15, e tutte le altre non possono mai avere valore minore di 5. Quindi potete mettere il valore che vi pare da 5 a 14, una sola può avere il 15. Di partenza poi le potete alzare. E prendendo una caratteristica per una persona comune, che è il 10, per ogni punto che va sotto, quindi dal 10 fino al 5, avrete un più, un modificatore negativo alla prova. Mentre invece andando dal 10 al 15, avrete un meno che è un modificatore invece positivo. Cosa vuol dire questo? Se voi avete 12, avete meno 2 alla prova, perché da 10 a 12 c'è 2, quindi meno 2. Se voi avete 15, nel caso la portate avanti anche con più punti esperienza, avete un meno 5. Stessa cosa se invece di 10 avete un 9, avete un più 1, se avete un 7, avete un più 3. Questo cosa vuol dire? Che quando si va a fare delle prove, c'è sempre caratteristica dell'attaccante, o comunque di chi fa la prova, e caratteristica del difensore. Cosa vuol dire? Che se io, prendiamo caso, combattere con le armi bianche a 15 come valore, e il mio nemico invece ha difesa a 10, vedete che 10, come avete detto prima, è 0, quindi non mi dà un modificatore. Questo cosa vuol dire? Che io vado a fare un tiro di dado da 20, e tutti, già ho fatto 16, ho fallito, e tutti i risultati che vengono come la vostra caratteristica, o sotto, siete riusciti nella prova. Vostra caratteristica, oppure vostra o sotto. Se invece andate oltre la vostra caratteristica, come in questo caso a 16, la prova è fallita. Nel caso il mostro avesse avuto difesa 14, 14 come vi ho detto era un meno 4, quindi io dal 15 che è la mia caratteristica, dovevo togliere 4, perché è il meno 4 che mi dà lui con la sua caratteristica, e andavo a 11, quindi devo tirare il dado, 10, devo fare 11 o meno per colpire. Fine del gioco. Tutte le regole sono qui. Magia, lancio il mio incantesimo, vado sulla caratteristica che mi serve per tirare incantesimi, ce l'ho a 13. Ok, il mio nemico, cosa c'ha per resistere alla magia? C'ha 12. Ok, 12 mi dà meno 2, quindi 13 meno 2 fa 11, io devo tirare 11 o meno per fare la prova. Fine del gioco. Poi ci sono tutta la lista dei tratti, dei talenti, e l'abilità, che è un'altra cosa che ho pensato da morire, l'abilità hanno 3 gradi, che si va dal novizio, al moderato, all'esperto. Tutto lì, a seconda del grado fate una cosa in più. E mi piace da morire, che non è come tutti i detti giochi. Devo fare una prova di combattimento in corpo a corpo. Agilità più armi bianche. No, 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 qui tirate solo i dadi delle caratteristiche. Le abilità vi danno dei bonus, che ne so, invece, magari quando combattete vi danno un più 2, oppure perché no, potrebbero dirvi anche a scassinare, avete l'abilità di rendervi conto subito se c'è una trappola intorno. Le abilità sono qualcosa in più ai personaggi, ma quando andate a tirare il dado, è sempre solo sulla caratteristica. Poi ovviamente ragazzi, le regole sono molto di più, però riassunte, è veramente la ciccia, la carne al fuoco è questa. Ed è un gioco, forse uno dei regolamenti più facili che ho trovato finora. Quindi ragazzi, se devo dargli un voto finale a un gioco del genere, ovviamente ve l'ho spiegata abbastanza veloce, gli do un bel 8 su 10, e vi dico il perché. 1, perché questa cosa che vi ho detto di tirare il dado, è bella ma non è bella. Allora, velocizza il gioco per il fatto che sono soltanto giocatori a tirare il dado, però da un'altra parte, per un master più esigente come me, potrei dire, sì, io narro e basta, loro tirano, io dico cosa succede, però mi garba a tirare il dado, mi garba. Io sono di quei master che mi garba a mettermi il paramento davanti, tirare il dado dietro e vedere cosa avviene fuori. Mi garba. Mi sembra che, mi dà più l'idea che l'avventura e le sorti dei giocatori siano nelle mie mani. È una cosa mia personale, però ripeto, magari a qualcun altro le potrebbe piacere diversamente, però per me, questa cosa, se devo dargli un voto, gli do 2 su 10 per il fatto che me lo velocizza, e 8 su 10 perché no, perché le voglio tirare io dadi. Poi, oh, niente, vi vieta di tirare a voi, però come vedete, quando un nemico vi viene ad attaccare, siete voi che dovete fare il calcolo, perché a quel punto è alla rovescia. Dovete vedere l'attacco del mostro e la vostra difesa. Quanto c'ha di attacco il mostro? 10, ok. Quanto c'ho io di difesa? 15, quindi le do meno 5. 10 meno 5 fa 5, quindi il mostro mi colpirà con 5 o meno. Però non è che può tirare il master dopo sto calcolo, il calcolo lo dovete fare voi, quindi voi stessi dovete tirare il dado. Questa non mi è piaciuta più di tanto. E poi, ancora una volta ragazzi, un altro errore, che secondo me, vedo che si sta iniziando a fare un po' troppo spesso, comunque il gioco è uscito da un po' troppo tempo, da un bel po' di tempo, Simbarum si trova già le varie espansioni, ok? Come anche nella leggenda dei 5 anelli, c'è già il manuale che vi parla del Rokugan, quindi lì vi spiega tutto, anche semplicemente come il samurai si doveva soffiare il naso avendo stanutiva. Però, uno che compra il manuale base, in questo caso qui, lo compra magari e aspetta di leggerlo, per capire se li può interessare prima di andare avanti, ragazzi, non c'è ambientazione. Le pagine del regolamento sono, su Dugente e Passapagine che ci sono, le pagine di regolamento sono, ma non scherzo, 170, 30 d'ambientazione, ed è lì lo sbaglio. Cioè, io ho apprezzato da morire, ad esempio, Seven Sea, perché Seven Sea ha metà, anzi, un terzo del regolamento di regole, e due terzi d'ambientazione. Cioè, io qui l'ambientazione, ho capito un po' come il regno di Ambria, ho capito un pochino, educati e tutto quanto, della vecchia guerra, la cronologia storica, ma io dell'ambientazione del Davocar, non so nulla, perché te la accenna, ma ragazzi, non scherzo, se vi dico che del Davocar ne parla in sei pagine, credetemi, veramente ne parla in sei pagine, quindi come faccio a sapere di un reame, di una foresta grande, come tutta una nazione, cosa c'è dentro? Sì, ho capito, me la posso andando un po' a inventare cose varie, però, ecco, come fai? Capito cosa voglio dire? C'è troppa roba, però c'è già il manuale che descrive tutto quanto il Davocar, sì, però me lo potevi mettere anche qui, perché se io voglio iniziare a giocare a questo, devo comprarmi due manuali invece che uno, capito? È quello che un po' mi ha fatto sto giornasso, però comunque, ambientazione per quel poco che ho visto, intrigante da morire, regolamento ben fatto, veramente forte, solido, imparate per fare la scheda, ci vogliono 10 minuti, e quindi un 8 su 10 è meritatissimo, quindi ragazzi, un 8 su 10 è meritatissimo, trovate il link in descrizione, non vi metto il link della Freya League, anche tanto uguale sempre di loro, ma vi metto quello della Space Ore, che almeno lo andate a ordinare direttamente in italiano, ragazzi, non penso che qualcuno di voi lo vorrebbe prendere in inglese, quando c'è anche la versione in italiano, tra l'altro fatta veramente, dà paura per quello che ho sentito dire, quindi io spero che, primo link in descrizione, poi tutti quanti i nostri social, spero che il video vi sia piaciuto, fidatevi, cercate un gioco old school, è quello che fa per voi, però magari per documentarvi un pochino di più sull'ambientazione, vi converrà a prendere anche l'altro manuale, che appunto parla solo dell'ambientazione, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate con un commento, e alla prossima!